Arrivederci amore della mia vita, arrivederci amore della mia vita, ti amo come si amano certe cose oscure segretamente tra l'ombra e l'anima, diceva Pablo Neluda è così, è così che è iniziata la mia storia con Marielle in segreto anche per noi al punto da non riuscire a identificare cosa fosse quel sentimento senza nome che ci guidava per anni non abbiamo potuto vivere la nostra vita in libertà temevamo i pregiudizi sociali, temevamo la reazione dei nostri amici, delle nostre famiglie temevamo soprattutto, sì soprattutto la nostra paura perché potevano due donne nate nelle favela vivere insieme, c'erano molte ragioni, sì molte ragioni per stare lontane e solo una, solo una ci ha spinto avanti, l'amore arrivederci amore della mia vita, arrivederci amore della mia vita